Parlarvi anche di una sedia, ragazzi, una sedia, top, top sedia, ragazzi, veramente Una sedia del genere non l'avete mai vista, mai vista prima d'ora Non è la sedia della K-Racing, non è la sedia della nuova Questo è un passo avanti, porco diavolo, ma veramente avanti, cazzo Ma questa è una sedia innovativa, è una sedia che tu quando ti metti seduto dici Che bello, questa cabra mi rilassa, mamma mia Mamma mia se mi rilassa Questa è la sedia? La sedia del nonno quinto Mamma mia se la sedia del nonno quinto Porco Dio, padre Pio Porco Dio, sono rotto padre Pio Vabbè, questa è una sedia magnifica, ragazzi, ma questa sedia in legno Ma dove cazzo ce la trovate una sedia in legno così, porca miseria Mentre Madocca S è a breve, farò le serie di Madocca S è a breve A breve c'è